Questo video messaggio svela un segreto. Il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni in realtà è un impostore, contro gli interessi dell'Italia e degli italiani. È un adepto con il compito di mettere al sacco l'Italia, svuotarla di ogni ricchezza, spolpare l'Italia fino all'osso. È una volta che non è rimasto più niente da prendere. Toglierà anche il sangue dagli italiani. Saccomanni è un traditore della patria. Lavora per potenze occulte straniere. Le lobby bancarie sioniste che operano al di fuori delle regole. Le stesse che egemonizzano l'Europa. Uno spietato esecutore materiale. Un aguzzino che ha il compito dello strozzino più efferato. Non ci possiamo aspettare nulla di positivo da colui che ha l'incarico di mettere al sacco l'Italia. In questo momento l'Italia ha bisogno di rilanciare la propria economia. Allentare la presa fiscale. Defiscalizzare per incentivare gli investitori e il rilancio. Saccomanni è invece preposto per affondare il paese. Renderlo non più competitivo a livello europeo e ridurre alla fame il popolo italiano. E infine, verrà sferrato il colpo di grazia all'Italia con il favoreggiamento alla immigrazione clandestina da parte di paesi poveri le cui genti sono disposte a lavorare per un pugno di riso. Gli italiani verranno derubati anche del proprio lavoro. È una volta ridotti miseria i loro campi e le loro proprietà immobiliari saranno confiscati per pagare i debiti creati in maniera artificiosa e gli italiani saranno per sempre annientati.